Ciao a tutti, noi siamo i Deppi Society. Io sono Federico, Julia, Emi, Paola, Francesca, Ilaria e partecipiamo a Prepararsi al Futuro Lazio per raccontarvi di una piccola realtà sostenibile presente nel nostro territorio. Il nostro progetto si chiama La Comunità di Capodarco per una società felice e l'ambito di intervento nel quale vogliamo intervenire è quello dell'esclusione sociale. Abbiamo realizzato una videonarrazione presso la comunità di Capodarco che opera da oltre 40 anni nel settore del sociale, favorendo l'integrazione lavorativa per i ragazzi disabili. Ci siamo regati presso la comunità durante un'intera giornata ed abbiamo realizzato una serie di interviste coinvolgendo i ragazzi e integrandoli con noi. Ci auguriamo dunque di raggiungere il nostro obiettivo che è quello appunto di sensibilizzare circa la tematica dell'esclusione sociale che ancora molto sentita in Italia è purtroppo difficile da istirpare. To be happy, to make happy, to feel happy, the happy society!